Bella, bella e bella. Ora possiamo parlarne. Il test ha dato i suoi frutti. L'ho provata per qualche centinaio di chilometri. Fango, terra, è stata lavata più volte e devo dire che ha superato greggiamente i primi test di usura e di resistenza, molto molto traspirante, decisamente ideale per la stagione estiva, primaverile, direi come temperature dai 15 ai 30 abbondanti. Avendo la manica molto lunga e aderente, può essere giocata anche nei periodi più freddi delle mezze stagioni, magari indossando un manicotto sotto, così da allungare la manica. Le tasche posteriori, classiche, perché devo dire leggermente più profonde rispetto ad altri modelli che ho provato. Come vestibilità ho preso una taglia M ed è in linea con altri brand. Nulla da segnalare, cazzo è il giusto. I dettagli ci sono e sono fatti bene, per esempio il rinforzo che hanno messo nella parte superiore, nella parte finale della lampo, per evitare che vada a dare fastidio al collo. Intorno alla vita c'è questa fascia un pochino più spessa, con il marchio in bike. È leggermente gommatino per favorire il grip alla vita ed evitare che la maglia si tiri su durante l'attività fisica. È un brand sicuramente che propone prodotti di buona qualità ad un prezzo competitivo, perché una maglia tecnica del genere, magari marchiata con un brand più importante, la andiamo sicuramente a pagare molto, molto di più rispetto a quello che offre InBike. Io consiglio InBike assolutamente, la ringrazio per il prodotto testa che mi ha fornito, che il prodotto si presenta bene, consigliabile, consigliata.